Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, Gorgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder. Si parlerà di una squadra che molti mi hanno chiesto di fare, cioè la Major League Soccer, quindi la MLS, campionato americano. Ho fatto questa squadra che in realtà è una BSG che diciamo come valori ha 89-90 di velocità, quindi è veramente incredibile. Ho usato in principio il 4-4-1-1 e poi il 4-4-2, ma comunque sono due moduli sostanzialmente molto simili, quindi cambia relativamente poco. Ovviamente il portiere, ho utilizzato un altro portiere che non di questo campionato, perché in questo campionato non mi fanno letteralmente impazzire. Una cosa c'è da dire è che i giocatori ultimamente, soprattutto argento e bronzo, costano la follia, l'ira di Dio, quindi forse non è il momento più adatto per farsi sta squadra. Quindi cominciamo subito con il portiere che è uno dei migliori del gioco ed è senza dubbio Howard, che ovviamente non ci sono molti aggettivi per descrivere questo giocatore. È veramente fantastico, para di tutto, si può dire. Non ha neanche statistiche esagerate se poi guardiamo sulla carta, però veramente è una potenza della madonna. Davvero ve lo consiglio di brutto perché è uno dei miei portieri preferiti di questo gioco. Poi andiamo qui in difesa, mettiamo campionato MLS, se no ci mettiamo 15 anni a trovare i giocatori, ci mettiamo anche 15 anni a trovare il campionato. Yedlin, costa una follia, 30.000 crediti e passa per un terzino destro, che poi è un 68, quindi neanche un 74 per capirci. Ma ha due gol in cinque partite, questo ha tipo 90 di tiro. Vi giuro ha un long shot innato, non lo so, nascosto, ha delle statistiche ignote perché davvero è incredibile. Gli hanno fatto due gol di long shot da calcio d'angolo, di ribattuta più che altro, che sono stati veramente molto belli. È un giocatore molto decisivo che spinge un botto, è forte anche comunque in difesa perché grazie alla sua velocità riesce a recuperare. Non è altissimo, però comunque ha un buon fisico, quindi è davvero un ottimo giocatore che comunque ha un prezzo spropositato. Come del resto, non tanto lui, cioè Opara in difesa, ottimo difensore centrale, che purtroppo non ha un valore di difesa altissimo, ma compensa comunque con la sua velocità, il suo work rate, la sua altezza e il suo fisico. Ma soprattutto abbiamo Win, che adesso qui, come vedete in queste immagini, l'ho pagato 83.000 crediti, ma tipo un mese fa. Adesso da quello che ho notato sta tipo oltre 200.000 crediti, che è una follia. Cioè non può essere pagato così tanto. Adesso vado proprio a vedere quanto costa Win, perché è veramente pazzesco. 188.000 crediti, quindi costa 100.000 in più, ovviamente parlando di PlayStation. È fortissimo perché è velocissimo, è buono comunque in difesa e soprattutto in fisico, però veramente ha un prezzo esagerato. Poi un altro prezzo esagerato, ma comunque giocatore molto buono, è Ashi, 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 che è un ottimo terzino, velocissimo, con un buon dribbling, un buon valore di difesa. E basta, sostanzialmente due stelle più debole non sono al massimo, il prezzo è altissimo, però è un buon giocatore. Ci spostiamo a centrocampo, dove ho utilizzato Jones a destra, che è ottimo, nel senso che è veloce, è molto completo come giocatore, con velocità, tiro, buon passaggio, forte anche in difesa e soprattutto in fisico. Giocatore che mi ha fatto un gol, considerate che queste 5 partite sono state 3 quit dell'avversario, quindi diciamo che sono state 3 partite complete e quindi molti dati sono un po' del cavolo, nel senso che probabilmente molti giocatori avrebbero fatto più gol e soprattutto più assist durante le partite in cui gli avversari hanno quittato. Comunque Jones è ottimo come centrocampista, come è ottimo anche il suo compagno di reparto, che non gli ho modificato il ruolo perché tanto non cambiava l'intesa, cioè Alonso. Giocatore molto molto simile, devo dire, forse meno tiro per lui, però un gol e un assist in 5 partite e quindi davvero ottimo ottimo giocatore. Poi, esterno di destra, Kato che è molto veloce e basta sostanzialmente, no comunque un buon tiro però come dico sempre gli esterni non servono granché in questo FIFA, quindi si può volendo anche fare a meno, però io ho voluto fare la squadra più veloce possibile dell'MLS e quindi vabbè ho dovuto inserire per forza gli esterni. E' comunque buono, nel senso, un buon giocatore, peccato che ha solo 3 stelle abilità, però comunque non è male e costa non tantissimo. Mentre come esterno sinistro, Mané che è veramente forte, molto molto forte, anche se qui 8 partite, 0 gol e 0 assist, ma ripeto gli esterni fanno veramente poco in questo gioco, 94 di velocità, veramente tanto, 62 di tiro pure, anche il dribbling è buono, ottimo direi con 4 stelle abilità. Andiamo invece con la coppia di attaccanti, veramente incredibile, cioè Oba Oba Martins come attaccante di destra, ovviamente non considerate le 5 partite con 2 gol e 2 assist, ma sarebbero stati sicuramente molti più gol per lui. La sua positività è che ha 5 stelle piede debole, invece la sua negatività è il workout normale normale, che non è il massimo della vita, quindi non è facilissimo fargli scattare in avanti i giocatori. Però comunque si è un ottimo giocatore, cioè velocissimo, buon dribbling e soprattutto un ottimo tiro appunto compensato dalle 5 stelle piede debole. E infine troviamo Jovinko Transfer, che ho voluto provare così un po' per sfizio, anche lui purtroppo è normale normale, quindi è un po' così. Quindi è un worker di questa squadra, di questo attacco, l'avevo utilizzato come AT, era lui l'AT della squadra nel 4-4-1-1, comunque è molto buono come giocatore. L'unica sua pecca ovviamente è il fisico, la sua altezza, come giusto che sia, se fosse un po' più alto, se avesse un po' più di fisico sarebbe veramente inarrestabile, molto molto simile ai barbo. Comunque raga, la squadra è questa, una squadra molto prolifica perché oltre agli attaccanti anche i centrocampisti segnano e soprattutto il terzino destro, quindi vi invito a provarla quando i prezzi ovviamente scenderanno. Molti di voi mi hanno chiesto di fare una squadra un po' più costosa rispetto alle ultime che vi ho fatto, una squadra arriverà magari con i giocatori che ho già nel club, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Vi invito come sempre a lasciare un bel pollice in su, un bel like, vediamo se riusciamo ad arrivare a 300 mi piace, iscrivetevi nei commenti che squadre volete in futuro, quali prossimi video volete, eccetera eccetera. E iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, adesso vi lascio alle clip, ci vediamo al prossimo video, bella raga! Ciao! Ciao! Ciao!